Scopri anche tu il mondo di Nick Junior. Nick Junior, imparare giocando. E' un crimine molto grave piratare i canali televisivi. Fare queste cose può portarti, fino a 16 anni di carcere, e un gran finale di soldi. Si prega di fare riferimento a p.nickjr.it per maggiori dettagli sull'happing dei canali televisivi. Non essere sordo. Ti abbiamo detto molte volte che spegni la televisione e ancora non l'hai fatto? Per favore. Grazie a tutti.